ciao da Chris24 e Mino e Mino stavo sempre a cui c'è stato a qua seduta sul cesso non sta sul cesso Mino e beh comunque sta qua oh Mino lo sai che rimpiango quel giorno in cui dormivi cazzo non mi stai rompendo i coglioni ma perchè gli avete detto di svegliarsi mi faceva tanto comodo quando stava zitto zitto no voglio il cecchino cazzo ma perchè non mi son messo il cecchino con il cecchino di devore un fucile oddio una mandria un giocatori di rugby cazzero eh si ma neri incazzati neri eh eh funziona del pompa cartuccia modern warfare 2 Mino vuoi sponsorizzare qualche gioco io sponsorizzo solo la pasta al forno non ha già testa pasta al forno devo dire a mia madre se la fa mi fa due bandiere no te lo giuro a pasqua vieni devono andare al al ristorante no? a pasqua tu che ne so a pasqua se vuoi la sera vieni trovi due bandiere pure al pomeriggio puoi venire no tu se vuoi venire io sto già qua ahahah 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 ti sta lamentando perchè sta giocando ragazzo e lui mantiene il telefonino dai ma chi cazzo sta sparando questa oddio c'è un marocchino ancora ok dai moti se te lo ci rivedi eh romantini benedetto quanti minuti due avevo un po' l'ha fatto l'altro giorno per me questo forno tu sono l'ho già dato solo per te no tu gliel'hai chiesto no ho fatto dal freezer ma tutti sanno ma a me la pasta forno mi piace pro se scopazzo più per i cannelloni come se finiscono subito eh appunto mia madre mi fa quattro guandiare quindi quello tutto continuato tutto continuato hai un amico ma anche loro un grande amico se la strada non è dritta ci sono non è dritta ci sono due mila pericoli ti basti solo unico eh già in pericolo lo sai tutti la conoscenza tranne tu si butta una granata ad avercela e poi buttare la granata dove sta sciva è una volta buona che è infatti che muore e sciva si fa ammazzare e sciva si fa ammazzare piratitattara oddio è questo ma vada anche il di tua madre e ehi non rompere i coglioni e fra poco c'è topo gigio e fra poco c'è topo gigio e fra poco c'è topo gigio per chi non lo sapesse perché non si è visto il video non so che video era numero 12 qualcosa del genere topo gigio e il pipistrello gigante nooo ma porca troia ehi senti in culo a tua madre no perchè quella stupida sta scendendo perchè è scesa ma è stupida e allora ragazzi non non per fare il rompi coglioni ma guardate quanto è stupido sto gioco ora io tiro la corda e lei deve salire perdiamo un'altra mezz'ora perdiamo cioè ma io ti giuro io prenderei quello che ha creato la resident evil gli spaccherei la testa contro la mia xbox 360 minuto lo giuro ma si può essere così ignorati guardala beh deve dimagrire si deve dimagrire allora shiva con il mio cuore vai in culo a tua madre con il cuore te lo dico ritorna da dove sei nata si ritorna da dove sei venuta cazzo infilati puttana allora ragazzi qui ci sono due diamanti sia sulla statua di sopra che shiva con la sua intelligenza artificiale fatta di merda non ve lo raccoglierà quindi vi tocca salire e andarvelo a prendere e uno sulla statua di sotto io siccome ce li ho tutti non ne vale la pena andarlo a prendere perdere un casino di tempo come se già lei non me l'ha fatto perdere un casino di tempo perdere l'amore eh ma perdere il tempo è peggio ma perchè non ti posso ammazzare? perchè? quanti minuti mino? 5 5 minuti 5 minuti solo 5 vedrai che è la pasta a forno te ma ora questa pasta a forno cazzo per favore fatelela cucinatela e inviatela su youtube così lui sbava mentre guarda la pasta al forno hai noto i coglioni mino sta pasta al forno aspetta forse vomito e te la faccio mangiare l'ho mangiato due giorni fa vediamo se ancora ce l'ho nello stomaco con i succhi gastrici è buono eh un altro diamante indovina chi arriva? topo gigio! ma cosa mi dici mai tu? io sono topo gigio è il fratello di batman ah 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 io sono qui ah ah mitico mi che due coglioni che se sciva una spara? no il problema è che sciva lo distrae e io naturalmente lo colpisco da dietro ma siccome sciva è una cogliona e questo è il risultato mino non puoi fare niente fra poco dovrebbe cadere a terra e rivolgermi la pancia verso di me oddio che palle no no i granate no questo per e anche se ce l'avevo non le usavo quanti minuti meno? guarda i minuti te siete sono io sto guardando ok ce la facciamo in sette minuti questa carcassa di merda è morta è proprio ora doveva caricare mmm è morto è morto il diamante che naturalmente la maggior parte dei giocatori di resident evil come alcuni amici miei non sto parlando di mino perchè resident evil 5 purtroppo non ce l'ha ti li conosce scusa eh e apposta di ammazzare il pipistrello scappano via io non mi consiglio di scappare via anche perchè il pipistrello quando morirà vi darà un diamante del valore di 10.000 monete io come ho detto se ero Chris Redfield sei scappato già da un pizzo no tu per quanto sei fifona non saresti mai arrivato in Africa per scevasi ma poi te ne saresti tornato e quanti minuti meno 8 8 minuti e quanto 32 32 che rottura di coglioni purtroppo su youtube si può mettere fino a massimo di 10 minuti l'altra volta per 10 minuti e 10 secondi non mi ha caricato oddio questa è una buonanza a minuardo eccella si chiama mamma mia quant'è bella parla russo al dialetto guarda all'accento russo solo a sentire la sua voce ti si rizza il capezzo senti senti you know I was surprised las flagas were such a success when you first arrived I had my doubts and now uroboros is complete mi quanto è buona minu ti piace? oh buona dazzo oh my ma è come parla oh my she big ass my your dig in my pussy ah da chris24 e minu che super eccitato arrivederci o dazzo i i i i i i i i i Grazie a tutti.